La strada della vergogna continua a essere una vergogna a cielo aperto. Si chiama Provinciale 156, ricade in territorio di Biancavilla e al suo inizio, al confine con Adrano, è una discarica ormai storica. Nella scorsa sindacatura, primo cittadino Giuseppe Glorioso, i rifiuti hanno addirittura occluso parte della carreggiata, impedendo l'ingresso alle auto in una corsia di immissione. Dopo mesi, se non anni di contenzioso con la città metropolitana di Catania, si giunse finalmente alla bonifica e all'installazione del servizio di videosorveglianza. Ma nulla sembra frenare la dilagante inciviltà. I rifiuti, soprattutto ingombranti, elettrodomestici, arredi e similari, continuano a proliferare. Ieri ci siamo recati nuovamente sulla Provinciale 156 e ci siamo imbattuti nuovamente nella vergogna. L'immondizia continua ad albergare ai bordi della strada. Come zattere abbandonati in un lago formato dalle recenti piogge, tv, mobiletti, materassi fanno bella mostra di sé. Il servizio di videosorveglianza è sempre lì, ma se funzioni o meno non è dato sapere. Giriamo la domanda all'attuale amministrazione comunale, chiedendo pure chi e quando bonificherà nuovamente questa vergogna?